Presidente Cicculto, che mostra ci aspetta? Una mostra piena di titoli, talenti, creatività, novità, opere prime e anche qualche sorpresa, sia dal punto di vista della logistica del Lido, siamo in una sala nuova per le conferenze stampa, una bellissima sala chiamata dei mosaici, come forse si possono vedere sullo sfondo, e un'espansione ancora più evidente della sezione del VR. Vengo adesso da un sopralluogo all'isola del Lazzaretto, dove è veramente impressionante la quantità di progetti che vengono presentati e la straordinaria levatura delle tecnologie. Questa è finalmente una mostra senza più restrizioni, la prima sua mostra senza restrizioni. La prima mostra senza restrizioni, ma con una raccomandazione di prudenza comunque, perché purtroppo quel signorino lì che chiamiamo Covid-19 ancora gira e quando può fa degli scherzetti, per cui chiediamo alle persone di continuare a dimostrare quel senso di responsabilità che ha dimostrato nei due anni più tragici della pandemia. Senta, due anni fa non era salito sul palco all'inaugurazione, quest'anno salirà sul palco? Due anni fa non sono salito sul palco perché mi sembrava molto bello, in un anno così anche difficile, che a consegnare il leone d'oro alla carriera a Tilda Swinton, fosse un'altra straordinaria attrice e una magnifica persona, che era Cate Blanchett. Mi sembrava che così un presidente che sale sul palco poi ci si aspetta che dica delle cose, avrebbero potuto essere dette solo delle cose attinenti alla situazione sanitaria e mi sembrava che stridesse un po' con la voglia di celebrare anche una festa e una vittoria nell'essere riusciti a fare la mostra. Quest'anno salero sul palco per consegnare il leone a Deneuve. Cosa ne pensa di Caterine Deneuve, un suo giudizio da uomo anche di cinema? Ho avuto la fortuna di conoscerla negli anni, sono poi stato amico di Chiara, anche di sua sorella Barbara. Cosa si può pensare di Caterine Deneuve? Caterine Deneuve è una donna straordinariamente intrigante da tutti i punti di vista, non solo per la bellezza, non solo per il talento, ma perché si sente sempre una vibrazione diversa quando si sta con lei, si sente un qualche cosa di universale. Forse non si capisce fino in fondo che cos'è, ma perché ci riguarda tutti, però ci riguarda tutti. C'è una grande attesa per quest'anno, per la mostra, rispetto anche alle volte precedenti, un po' perché il Covid sembra che sia risolto, quantomeno, quindi c'è un'attesa superiore anche agli anni scorsi, la percepisce? No, io direi che più che attesa c'è grande voglia di partecipazione, che è ancora più difficile da gestire dell'attesa, perché ci troviamo di fronte a delle richieste molto alte e numeri di partecipanti, sia dal punto di vista degli spettatori che delle delegazioni, che insomma sono molto elevati, quindi la gestione non è semplicissima. E poi non era mai accaduto che l'Academy arrivasse a Venezia in visita ufficiale? Ma io credo che questo sia un segno dei tempi, non solo per il fatto che molti dei film presentati a Venezia sono poi stati premiati con l'Oscar negli ultimi anni, ma credo che sia anche questa necessità di dialogo fra grandi istituzioni. Il cinema è un grande mare, ma è anche una grande famiglia, che le istituzioni si parlino anche per parlare di futuro, in un momento in cui le nuove tecnologie stanno portando delle modifiche importanti, è secondo me una necessità ed è bello e significativo che questo incontro avvenga a Venezia nel momento in cui tra l'altro i vertici dell'Academy sono appena cambiati. 90 anni poi quest'anno era morto? 90 anni e se li porta bene. E ci saranno iniziative di solidarietà per l'Ukai? Ci sarà un panel, una giornata in cui saranno dedicate interventi, presenze, non solo di uomini e di donne di cinema, ma anche di arte. Abbiamo invitato sia il curatore che l'artista del Padiglione Ucraino alla Mostra Internazionale d'Arte e noi ci teniamo che questo dialogo sulle arti, che è tipico della Biennale, si estenda anche a temi drammatici, come questo della guerra. Il messaggio di questa mostra è che venite e vivete in presenza, anche da lontano, un festival che rispetta tutti i pubblici a cui si rivolge, da quelli degli addetti ai lavori, da quelli che ne fanno un business, quindi un'industria, e anche da quelli che magari vengono solo per vedere i loro beniamini e poter sognare. Il cinema è rimasto sempre uguale a se stesso, cambiano le tecnologie, ma è sempre fatto di grande creatività e di capacità di sognare. Quindi lo manteniamo. Grazie a voi. Grazie. Grazie.